Nel bisogno immediato non si guarda la carta d'identità e quindi tutti ne hanno diritto, allargando anche molto rispetto a prima. Però l'investimento sociale noi lo facciamo su chi ha un rapporto con questa città da almeno cinque anni in termini di residenza. L'annunciata rivoluzione all'interno delle politiche sociali del Comune di Arezzo adesso trova il suo compimento e si poggia sul solido pilastro della residenzialità. L'elemento cardine infatti sarà proprio la residenza nel Comune Aretino da almeno cinque anni, requisito che permetterà di accedere agli investimenti strutturali del sostegno sociale. Noi oggi distribuiamo le risorse degli aretini e chi ha dato è giusto che se ha bisogno non venga sempre in fondo alla fila. Abbiamo invece riscontrato in questa analisi che stiamo facendo dove facciamo una banca dati di coloro i quali ricevono aiuti dal Comune negli ultimi anni che spesse volte gli aretini di sempre o gli aretini da molto sono gli ultimi che riescono ad avere un aiuto e questo sistema va ribaltato. Tra gli elementi della rivoluzione all'interno delle politiche sociali anche una novità assoluta per il Comune di Arezzo, ossia il sistema di voucher spendibili da beneficiari per i beni di prima necessità. Coloro i quali hanno bisogno e diritto di avere un aiuto non saranno più costretti a fare quella questua, cioè quella processione del bisogno, ma ricevendo il voucher qualora il loro bisogno ne abbia in qualche modo il contenuto, è chiaro che con quello ricevuto potranno muoversi liberamente, soprattutto non avere questa modalità davvero da terzo mondo di andare a chiedere l'obolo ogni mese perché non è bello per la politica che lo fa, ma soprattutto non è dignitoso per le persone che lo chiedono. Dare denaro significa mettere in mano alla persona che ne ha bisogno la piena disponibilità. Con il voucher sociale sapremo quali sono i bisogni e dove vengono spesi. Abbiamo messo dentro farmacia, abbiamo messo dentro supermercati, abbiamo messo dentro alimentare, abbigliamento, quindi i bisogni primari di cui il cittadino può aver bisogno.